E' arrivato, quel momento che non so se ci si aspettava in realtà ragazzi, è arrivato Questo è ufficialmente l'ultimo episodio della Big Vanilla Una serie che è iniziata, se non mi sbaglio, il 10 gennaio del 2021 Oggi, che è il 28 gennaio, quindi praticamente un anno e 18 giorni dopo Si concluderà ragazzi, avete visto il video di Marci Dove ci siamo tornati tutti quanti esseri umani, normali Perché la guerra tra vampiri e cacciatori è finita grazie alla Big Regina E avete visto anche i video di Steve Ferry dove parlavano del perché o del motivo per cui la Big Vanilla si concludeva ragazzi E diciamo che comunque è stato un percorso veramente molto 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 bello Molto 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 importante Ho pensato onestamente in questi giorni a come poter concludere una serie Che per quanto mi riguarda ha fatto veramente tantissimo Perché è stata una serie incredibile Tantissimi youtuber assieme ragazzi E cosa potevo dare io in più all'interno di questa serie Appunto come ultimo episodio E se non stato io il Big Generale per tantissimi di voi ragazzi in questo periodo Diciamo che è stata una mini serie all'interno della serie stessa Il tour del mondo della Big Vanilla Quindi nell'episodio di oggi come episodio finale della Big Vanilla Faremo il tour totale di tutto quanto il mondo con tutti quanti i suoi piccoli segreti Vedremo ogni minima cosa Ogni minima costruzione Ogni minimo momento Lo ripercorreremo assieme Credo o non lo so ragazzi Che sarà un video molto lungo Secondo me durerà tanto Poi non lo so perché appunto questo qui è la prima volta che ho registrato Non credo che proverò a riregistrarlo Perché voglio farlo subito a primo colpo Voglio vedere come esce come tour Perché comunque Essendo una serie a cui ho dedicato Abbiamo dedicato tutti quanti tantissimo tempo ragazzi Diciamo che voglio anche trasmettervi Tutto quanto l'emotività che c'è dietro Partendo subitissimo Dall'animale che ci ha portato compagnia In tutti questi cento e passa episodi ragazzi Lui Coco Coco ha visto dei momenti molto difficili Perché è stato catturato dal Big Ladro E ha fatto delle fini incredibili ragazzi È stato risuscitato dal Big Ladro stesso Quindi anche da Steffo È sparito È tornato dopo mesi Sta a fluttuare in giro per il mondo Ed è l'unico mob L'unico animale Che ha la targhetta visibile Attraverso i blocchi Appunto come se fosse Una persona Ed è per questo motivo per cui sono tanto affezionato a Coco Perché poi all'interno della serie Grazie a voi Grazie a tutti i commenti Grazie a tutte le quante le cose Lui è diventato veramente una mascotta di questa serie Quindi caro buon Coco Credo che ti porterò comunque ovunque In tutte quante le mie serie Te lo prometto Ma comunque Ragazzi Volevo fare questa intro E salutarvi con Coco E darvi il benvenuto E bentornati In questo nuovo video Della Big Vanilla Come appunto vi ho detto Quindi sarà un video bello lungo Oggi Non vi chiedo di commentare Con l'hashtag Minecraftita Ma vi chiedo di commentare Con l'hashtag Big Vanilla Dicendo Qual è stato il vostro momento Più bello E più importante All'interno della serie Ultimamente Ho anche smesso di chiedervi Di lasciare mi piace Nei video Perché Non lo so ragazzi Non mi va più di chiedere mi piace Se il video vi piace Bene Se il video non vi piace Non mettete mi piace O se il video vi piace Ma comunque non avete voglia di premere il tasto Fa niente Ma Voglio chiedervi di lasciare un mi piace Solamente nel video di oggi Perché ci tengo molto A vedere il supporto E a quanto ci tenete in sé A tutto quanto Quello che è stato questa serie Ma lo direi Partiamo Subitissimo Col tour Con la mia casetta Ragazzi Eccola qua Eh la mia casetta Ragazzi Se ne ha passato un po' Perché per esempio Questi blocchi qua Non c'erano prima Le ho modificati marci Che aveva il vizio di costruire Con quel dannotissimo legno blu Che a me non mi è mai piaciuto Io l'ho detto Sempre Probabilmente Lui ha sempre costruito Anche questo legno Perché sapeva che non mi piaceva Ma Diciamo Che la mia casettina È sempre stata quella Nel tempo Abbiamo avuto La camera da letto Prima da questo lato Poi qualche mese fa L'ho modificata Mettendo un corso d'acqua Per le litra E cambiando la camera da letto Mettendola dal lato opposto Ma comunque Di per sé La mia casetta Mi è sempre piaciuta tantissimo Perché era piccola Ma era super funzionale E all'interno Avevamo la crafting table Dei mi piace Dove abbiamo fatto Un'infinità di intro Ragazzi Poi Avevamo il magazzino Qua sotto Con Cos'è quella di una tenda Non so chi l'abbia messa La zona enchant Ragazzi Che probabilmente Avrete visto Un'infinità di episodi All'interno di l'enchant Ma perché mi avete sempre detto Che i miei episodi Dove incantavo le cose Mi piacevano tantissimo Quindi ho sempre fatto Enchant per tutti quanti Anche un po' per questo motivo Poi Proseguiamo ragazzi Perché all'interno del mondo Abbiamo tante cose Molto molto belle Abbiamo Mostrillo Che ha provato a uccidermi Molteplici volte Mostrillo 1.0 In realtà Perché gli altri due sono No 2.0 Scusate Perché gli altri due sono morti La prima farm di mucche La mappa ragazzi La mappa La prima mappa Della Big Vanilla Ovviamente non è aggiornata Fino all'ultima Per esempio Manca la testa della Big Regina Che l'è in fondo E tante altre cosettine Ma proseguiamo ragazzi Perché come vicino di casa Io mi sono sempre trovato bene Avevo il buon Kendall Che ha sempre avuto Questa torre gigantesca A fianco a me Molto molto bella Mi ho sempre detto Che ha fatto una torre Bellissima ragazzi Con all'interno Appunto L'ingresso per casa La zona enchante Che mi ricordo Che l'ho costruita In compagnia sua Insieme a Bella Faccia Marci Qua sotto c'era anche Il bunker Dove si poteva scendere Direttamente Io avevo messo Le prime armature Per la guerra Poi abbiamo Un albero Che è l'albero di Natale Che ho costruito Anche questo In compagnia di Kendall Dove ho fatto un sacco di regali Poi Oltre che l'albero di Natale Abbiamo Da questo lato La zona di Franci Coso Me la ricordo molto bene Perché quando Franci Faceva parte Della fazione nemica Quindi della zona Cioè della zona Del regno oscuro Io venivo sempre qua Per provare a ucciderlo Per portargli via le cose Ma non ci riuscivo mai Perché era super bravo In casa sua Essendo fatta all'interno Di quelle pianure Scusate di quelle colline È piena di cunico E di cose segrete Che non riuscivo a trovarlo mai Poi Abbiamo il castello Di Kennoia ragazzi Il castello di ghiacci Di Kennoia Che è una costruzione Gigalitica Una delle costruzioni Più belle Più grandi Della serie in sé Ed è bellissima Vi farei vedere anche Il suo axolot Tipo è raro Che ha trovato in live Ma quanto so Lo tiene all'interno Del suo inventario Quindi non lo potrei Neanche trovare E poi Da questo lato Abbiamo una delle casette Più carine Secondo me Della serie Che è quella di Nico Ragazzi Guardate che bellina Mi è sempre piaciuta La sua zona Perché era costruita In una parte di mondo Dove non pensavo mai Di poter vedere Magari delle costruzioni Bellissime Perché la taiga È molto difficile Tra colori Alberi giganti Ma la zona di Nico Ragazzi Mi è piaciuta un sacco C'è anche lui Una sola bella mappa Ok Molto 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 interessante Proseguiamo col tour Ragazzi Perché proseguendo Verso questa direzione Dopo l'albero Abbiamo la casetta Di Lorenzista Ragazzi Che per chi si ricorda Io mi nascosi No E chi è che si era nascosto Steve Fere Si era nascosto Si è trasformato A più più strello Durante un evento Mentre io li cercavo Se vi ricordate Ragazzi Non so se avete presente Di cosa sto parlando E la casa di Lorenzista Ragazzi È sempre stata una delle cose Più strane Quanto la serie Perché era Iper strana E c'è uno snow golem Dentro casa tua Lorenzista Vabbè Fa niente Fa niente Poi si prosegue da questo lato Zona di Sbreezer E Da questa parte qua Invece del mondo Abbiamo La casa gigante Costruita Dal buon Marci Di Favij Ragazzi Questa è stata Una delle prime Costruzioni giganti Di Marci E appena lo vi sento Beh 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 Bella 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 Complimenti Buon madame Marci Per poi Proseguire da questo lato Nella zona Di Steve Fere Della big regina E del big Steffo Big ladro E qua anche loro ragazzi hanno fatto un grandissimo lavoro Perché Si Marci ha fatto praticamente casa loro Perché è molto molto carina È proprio nello stile di Marci Simile alla zona di Favij Però Se posso dire ragazzi La verità Onestamente Steve Fere Mi hanno sorpreso tantissimo Perché Loro hanno proseguito Questa parte qua di mondo E l'hanno resa Una roba spaziale Questo albero qua davanti Di crimson È qualcosa Di leggendario Uno degli alberi più belli Della big vanilla Senza dubbio E qua Se non mi sbaglio Dovrebbero esserci anche Gli axol Eccolo L'axolot Sì per raro Che io regalai Alla big regina Eccola in fondo ragazzi Che sguazza un pochino Nell'acqua Ma comunque Dicevo Loro hanno fatto un lavoro Veramente bellissimo Con questa parte qua di mondo Signor Snow Golem Buongiorno Per poi proseguire E renderlo sempre più bello Guardate qua che bello Che ragazzi Quest'albero di crimson Veramente bellissimo Poi Se non mi sbaglio Qua abbiamo in sequenza Casa di Robby Che anche questa qua In legno è fatta molto molto bene E la zona di Xiao Che ha fatto una casettina viola Questa qui Che è la casa dei maghi Molto 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 carina E ha customizzato Una specie di montagna Trasformandolo in un vulcano abitabile Come notate ragazzi Che anche questo È super particolare Ma Tramite questo vulcano Per la prima volta Ho conosciuto L'esistenza Di mostrillo Che è quel mob di lava Che appunto vi ho mostrato Che assomiglia un po' a un creeper Che eccolo qua Per esempio Adesso è nella sua modalità boss Ragazzi Come notate Qua a fianco a me Ma Che comunque Diciamo che ci ha sempre fatto compagnia E anche ci ha fatto un po' arrabbiare Perché per catturare mostrillo Ragazzi Ci vuole Una fatica Incredibile Poi qua Xauve ha trasformato Una zona di nether Nell'overworld Molto 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 bellina Per poi Proseguire da questa parte qua Di mondo Allora Qua ragazzi Abbiamo una delle più grandi meme Della storia Oltre che La casa di marci Di cui non ho parlato Ma ho dato per scontato Ragazzi Quindi guardate qua Io secondo me Non ho termini Per definire La zona di marci Ragazzi Perché la zona di marci È sempre stato qualcosa Di mastodontico Qualcosa che si vedeva Lontano Un miglio Appena entravi nella serie Ovunque tu entravi La casa del buon marci Si vedeva sempre Ed era uno Spettacolo Ed è tuttora uno spettacolo Perché Assomiglia Mi è sembrato un po' Questa idea Della casa Di yellow neighbor Cioè Una specie di costruzione Un po' Eh Molto molto strana Ma Nella sua particolarità Sempre bellissima E ogni cosa che aggiungiva Era sempre più bella Tipo le mongolfiere Il veliero volante Tante altre mongolfiere E questa torre qua D'orologio Tantissime altre costruzioni E poi La torre della competizione Del big lado Una delle prime competizioni Con kendala Anche questa qua ragazzi Spaventosamente bella Spaventosamente bella Poi Si prosegue da questo lato Ma vi voglio parlare Di una meme Molto fondamentale ragazzi Che è La muraglia Della zona della big regina Questa muraglia qua Non è mai stata completata Dal sottoscritto ragazzi Ma perché È sempre stata Di una difficoltà Incredibile Da portare avanti Mi ero fermato qua Mi ricordo Durante le mie live Chi c'era Chi si ricorda ragazzi Può dirlo qua sotto Nei commenti E Diciamo che non ho mai fatto In tempo a finirla Perché veramente Era un lavoro immenso La zona della big regina Era qualcosa di Anu Enorme E quindi Era qualcosa di impossibile Da completare Ma fidatevi Ho dato di tutto Per fare Ho fatto probabilmente Qualunque roba Per completarla E non ce l'ho fatta Mi dispiace Qua abbiamo invece La specie di villa Una specie di casa enorme Dove le youtuber Potevano entrare Potevano entrare che aveva costruito Se non mi sbaglio Il bomba da marci Villa marci Infatti Dove Ognuno poteva comprare La propria stranza Di questa specie di albergo gigante E poteva starci dentro Quante volte voleva Molto molto carina Per poi proseguire Questa qui era la zona Praticamente comune Dove poi Si dava riferimento Al castello della big regina Qua avevamo fatto Una specie di villaggetto Dove poter tradare gli oggetti E ha funzionato tantissimo Ragazzi Oltre che essere Un po' il fulcro Anche della serie Quando facciamo gli scambi Qua ragazzi Potevamo fare un sacco di roba E ho notato che guerra Mi ha lasciato un cartello Con scritto Che volevo acquistare Un axolot Super raro blu Come procediamo L'ho letto solamente ora Vabbè Fa niente Fa niente Mi spiace guerra Comunque Qua c'era questo villaggio enorme Molto 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 carino Con questa fontana Tutte quante queste cose Per poi Andare da questo lato Dove si andava In una zona Che ho costruito io personalmente Ragazzi Questi qua sono proprio I miei alberi Si vede Sono gli alberi nel mio stile Ti quanti per custom Con un sacco di blocchi di legno Fence Slab Mushroom Come si chiamano questi qua Non mi ricordo ragazzi Comunque le luci di Non sono le luci di mushroom Non mi ricordo Adesso le togliamo ragazzi Ne togliamo uno Giusto per vedere come si chiama Perché ora mi sta saltando in mente il nome Ho distrutto anche una anvil Si chiama Mushroom light Perché ragazzi Mi confondevo con Mushroom e mushroom Allora Qua come si piazza però Sto scempio Calma calma Uno E la anvil Dovo capire anche in che direzione metterla Eee Due Ok Comunque Questa qua era la zona Che appunto ci portava All'interno del castello Della big regina Dove Avevo costruito Qua lato Anche il bunker Dei vampiri Che adesso Essendo che non sono più vampiro Da praticamente pochi giorni Questo bunker qua Sarà inutilizzabile Ragazzi Però Diciamo che ha fatto anche il suo Bellissimo e sporco lavoro Ok Chiudiamo direttamente Questa bellissima Trapdoor E proseguiamo Per andare direttamente In una delle costruzioni Più importanti Dove c'è stato anche L'evento Secondo me Più importante Della big vanilla Cioè Poi Il proseguimento Con l'esplosione Grazie al big ladro E la guerra dei due mondi Cioè Il regno Del re oscuro E il regno Della big regina Qua abbiamo l'interno del castello Che è qualcosa di clamorosamente bello Qua sotto Ci sono le segrete Ma non starò a farvi vedere Le segrete ragazzi Perché sennò Qua Facciamo più o meno Un'ora di video E poi diventa Veramente un casino Però Questo castello qui Ragazzi Diciamo che È stato Ed è tuttora Un'altra delle costruzioni Più incredibili Mai viste All'interno della big vanilla Qualcosa di veramente spaziale E l'evento Dove ci sono state tutte le esplosioni Di TNT Secondo me È stato L'evento più bello Del big ladro Perché mi ricordo Qua si vedevano tutte le TNT Esplodere Il castello disintegrato E noi Che siamo stati portati via 100.000 blocchi di stanza Andremo anche a vedere Quella zona là ragazzi Ma prima Voglio mostrarvi Tutta quanta La parte di mondo Tutte quante le costruzioni Che tutti quanti i ragazzi Hanno fatto Qua abbiamo La zona Di Buddy Anche questa ragazzi È una parte di mondo Bellissima Vi dico A me La palude Non mi è mai Piaciuta Non mi piace come bioma È un bioma di minecraft Che non mi piace Proprio per niente Però Io credo che Buddy Sia stato Clamorosamente bravo A rendere una zona Così difficile Da costruire Veramente Bellissima E questo tema Medievale Di blocchi di stone brick Dark oak È Veramente Veramente Bellissimo Ha reso Secondo me L'idea In una maniera Incredibile Qua tutto quanto Ghiacciato Perché poi c'è stato L'inverno Il momento Di natale Tutte queste cose Qua Vediamo Non si firma Chi lascia la tenda Comunque Dicevo Buddy Ha fatto Un lavoro Egregio Ragazzi Con questa parte Qua di mondo Bellissima 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 Si prosegue Di qua Dove abbiamo La zona di guerra Che è questa parte Qua di mondo Questa piccola Pettina Direttamente qua E la sua casettina Stile marci Se non mi sbaglio A casa di guerra Gli la aveva fatta marci Se non mi sbaglio Per poi Avere la zona di loco Qua abbiamo Su ex Smistamento Che è praticamente Vuoto E abbiamo Anche La zona Della sua Prima casetta Che è qua Ragazzi Molto molto carina La parte di loco Che qua c'è scritto Lili Ma Da questo lato Ragazzi Se tiriamo Sempre dritti Andiamo Direttamente Alla zona Dell'ex Big Re Oscuro Una parte Di mondo Dove Chi faceva parte E tuttora Fa parte Anche Del re Della big Regione Ormai tutti quanti Ma soprattutto Che ero big generale Venivo in questa zona Per spiare Buddy Per attaccarlo Per tutta quanta La questione Chi si ricorda Anche l'episodio Di bella faccia Della corona oscura Un sacco di robe belle Mi ricordano Questa parte qua Di mondo Per poi Essere completamente Distrutta Non mi ricordo Da chi se dal big Ladro o meno Però qua ricordo Anche per esempio I momenti In cui noi Sbloccavamo anche I primi poteri Da vampiro Ragazzi Guardate qua Che bella Che è questa parte qua Di mondo Tutta quanta distrutta Però il big Castello oscuro Ragazzi era qualcosa Di veramente 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 Leggendario Era bellissimo Facciamo una cosa Torniamo direttamente Anche nella Nella parte Di mondo iniziale Dove eravamo adesso Perché abbiamo ancora Tantissime cose Da mostrare ovviamente Per esempio Come una delle prime Costruzioni mai fatte All'interno di questa serie Abbiamo il portale Del nether Che per molti voi È sempre stata Una costruzione Iconica Di questa serie Bellissima Questa specie di Spada Incassonata Nella Nel terreno A forma di portale Qua a fianco Alla spada del nether Abbiamo anche La zona di bella faccia Che è una delle zone Più custom Di tutta quanta La serie Perché abbiamo Creeper giganti Polli giganti Anche le capre giganti Ma abbiamo anche I super polli E poi Una delle cose Più belle Oltre che all'axalot Uno dei colori Più belli Degli axalot Abbiamo Questa zona qua Che è tutta quanta Fatta di funghi Blocchi di birch Che è un legno Che è molto difficile Da mettere Magari a fianco A qualche blocco Perché ha un colore Molto molto chiaro Però lui Ha riuscito proprio A valorizzare tantissimo Questa parte qua Di mondo Con questi blocchi Qua di mushroom Che sono Spettacolari Ragazzi Poi abbiamo Il museo degli animali Tantissime altre cose Per poi poter andare Direttamente ragazzi Nella zona Della big guerra Guardate cosa vedono I miei occhi ragazzi Ve la ricordate ovviamente Questa parte qua Di mondo Il muro di neve Contro Il muro di cactus E sabbia arancione Alberi che hanno preso fuoco La torre Dove All'interno della guerra Io avevo difeso I nostri oggetti Portandoli via dal bunker Per nasconderli Qua dentro E poi Di conseguenza Vincere la battaglia Perché gli altri Avevano provato A distruggere Praticamente Il nostro bunker Dove credevano Che all'interno Avevano lasciato I nostri oggetti Abbiamo anche il castello Che costruì il buon Marci Con un sacco di trappole Mi ricordo che prima della guerra Marci fece delle tattiche Per scappare Per esempio Marco ricordati Che se devi scappare Quando giri l'angolo Salta questa Questa cobweb E corre a fianco al muro Così gli altri rimangono incastrati E li puoi attaccare Queste sono tutte tattiche segrete Che vi ricordo Vi ho detto che ragazzi Vi lanciavo qualche piccolo segreto Quei là Ma questa parte qua di mondo È sempre stata iconica Ragazzi Perché qua Si parla proprio di un momento Della serie fondamentale Dove Poi abbiamo vinto La guerra Guardate là in alto Cosa sta volando ragazzi La vecchia corona La fusione della corona oscura Contro la corona Della big regina Questa ragazzi È veramente Una scena iconica Perché questa corona qui È sempre stata fondamentale Signor Vex Lei può anche andarsene fuori Dalle scatole E mi ricordo ragazzi Questo periodo Perché per esempio Oltre alle varie costruzioni Che sono state fatte Io creavo Unicamente E solo Oggetti Pozioni Armature E quant'altro Qua c'è appunto Il segno dell'esplosione Qua Il vecchio No oddio Come dire Il vecchio team L'esercito oscuro Fece esplodere il bunker Dove credevano Ci fossero Tutte le nostre armature Pozioni Ma durante la guerra Io mi ricordo Che a un certo punto Durante la live Mi mutai Tolsi anche La visuale Perché non volevo Mostrare La scena in cui Spostavo tutto Quanto all'interno Di questa torre E mettevo Ogni singolo oggetto All'interno Di queste casse qua Ovviamente Ora è tutto quanto Vuoto Perché Non servono più Qua gli oggetti Se non mi sbaglio C'è qualcosa All'interno di questa Cassa qua sotto No è stato tutto quanto Depredato e portato via Ok Molto 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 Interessante Ma comunque Ragazzi Diciamo che ho Dei ricordi bellissimi Di questo momento Perché poi qua Per esempio Ho eliminato Buddy Direttamente in questa zona Là c'è il vecchio Cubo gigantesco Enorme Poi cosa abbiamo Ragazzi Cosa abbiamo Di qua abbiamo la parte Invece tutta quanti È nevata ragazzi Qua è stata Una delle prime parti Della guerra Super super bello Diciamo che questo qua Secondo me è il periodo Storico della Big Vanilla Più bello di tutti quanti Perché qua dentro Secondo me Sono stati proprio Quei momenti Un po' più frenetici Le live Il fatto che non ci si poteva incontrare Era super 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 bello Secondo me questo è il momento Più bello Di tutta quanta la serie Poi se non mi sbaglio Qua c'era anche vicino Un villaggio Mi ricordo ragazzi Questo villaggio qui Fu importantissimo Perché da qua Noi fecimo il giro Per attaccare Il bigregno scuro Da dietro E mi ricordo che Fere Trovò questo villaggio E diede in carico a me Di modificarlo Di mettere dentro Degli oggetti Appunto Per circumnavigare Il team ostile Il team del bigregno scuro Super super bello E sono dei ricordi bellissimi Anche questo calone qua Di tenettini Mi ricordo Aveva fatto loco Ok possiamo tornare Nell'altra zona Qua abbiamo la farm Di iron di marci Che io ho sempre rubato Tantissimo ragazzi Devo ammetterlo Per poi andare Anche qua Dove c'è stato il contest Degli animali Per esempio Qua abbiamo la zona Di loco Che è anche Che è stata utilizzata Poi dopo Per i cacciatori Dei vampiri Molto molto carina Questa parte qua di mondo Mi è sempre piaciuta Veramente tantissimo Secondo me Questa è una delle costruzioni Più belle Appunto Che sono mai state fatte Durante quel contest Questa è la cosa Che più mi era piaciuta Fu proprio questo portale Perché questo tema qua Ha specie denti Fatte in questo modo Io appena lo vedi Ragazzi Dissi Wow Che è una roba geniale Fare un portale Con le dripstone A tema denti Così ragazzi Proprio proprio bello Secondo me ha fatto Una generata incredibile E questa appunto Secondo me fu una Delle zone più belle E che vinse Se non mi sbaglio Anche fu uno dei ragazzi Che vinse il contest Degli animali Super super bella ragazzi Loco qua fece un lavoro Incredibile Credo di aver mostrato Tutto quanto Manca solamente La statua Della big regina Quindi andiamo subitissimo A mostrare anche La sua incredibile statua Eccola qua direttamente Ragazzi Con ancora la tnt Che era stata messa Direttamente qua in alto Dal big ladro Se non mi sbaglio Che aveva minacciato Di distruggere tutto quanto Non mi ricordo il motivo Ma ecco qua La statua Della big regina Fere ragazzi Con la corona oscura Di nederite E anche Non è oscura in realtà È la corona della big regina Quella che fu Unita Tra corona oscura E corona normale Appunto Io feci questa corona Di nederite E di gold Bellissima E poi feci questa statua Dove all'interno Avevo nascosto Se non mi sbaglio All'interno del braccio sinistro Gli axolot più rari Che avevo Della big vanilla Eccoli qua ragazzi Uno e uno due Guardate che bellini Che sono Per non dimenticarci Ragazzi Del fatto Che comunque Io avevo fatto anche Un bellissimo bunker Nella mia zona cane Degli axolot Quindi andiamo un attimo Anche per concludere Il nostro video del tour Nella nostra zona degli animali Ragazzi Perché qua Noi avevamo fatto Un bellissimo bunker Sono andato a recuperare Anche una plate Perché se no Non ci muoviamo Posso andare Aiuto Perché non va Non va qua Ma forse va un po' più indietro Direttamente qua Ok Si è funzionato Abbiamo fatto La nostra zona dei cani Per il contest ragazzi Io quando feci questa zona qua In realtà ero felicissimo Perché volevo fare appunto Una zona tema cagnolino Ovviamente per i vari meme Per i vari nomi E tutto quanto il resto E feci tutti quanti I vari tipi di animali Che potevano esistere su minecraft Ma un po' più customizzati Feci per esempio Il carlino Che secondo me Era un animale Super tenero Super carino Poi feci questo qui Che era una specie di Come dire Volpe Cane Più o meno Perché non sapevo di colore farlo Poi feci un sacco di Bolbeagle Il lupo Feci un sacco di diversi Colori di cane Per poi fare anche Un mini bunker Qua sotto Dove poter nascondere I miei axolot super rari Anche loro Non dico quanto cocco Ragazzi Ma anche loro comunque Hanno fatto parte Di un momento molto importante Perché abbiamo Catty Poi abbiamo Dov'è dov'è Abbiamo Catty Abbiamo Perry Abbiamo Dinnerbone Che è molto molto ignorante E per ottenere Tutti quanti questi axolot Ragazzi Per ottenere Per Mi ricordo Ragazzi Ci avevano messo Un'infinità di tempo Un'infinità di tentativi Tutte quante altre cose Per poi Unire nelle farm Altri tipi diversi Di axolot Tutti quanti Vari custom Con colori diversi Mi ricordo ragazzi Questa zona qua Ero iper Super affezionato Mi piaceva tantissimo E il fatto che erano nascosti Che nessuno poteva rubare Anche gli axolot Che ero Praticamente l'unico Se non mi sbaglio All'interno della serie Ad avere quello più raro E mi piaceva un sacco Perché poi c'era Marci Che mi ricordo Che cercava sempre Di trovare Il mio bunker Il mio axolot Ma non riusciva mai Però Comunque Ragazzi Direi che vi ho mostrato Tutto Credo Ovviamente Per voi Avrò saltato qualcosa Ragazzi In mezz'ora di video Perché sto registrando Da 30 minuti esatti Avrò saltato qualcosa Ma nel parlare Nel raccontare È molto difficile Non perdersi certi punti Però Spero Di avervi dato Quel feeling Che volevo darvi Cioè Che è stata una serie Veramente magica E fare qualcosa del genere Secondo me Non è neanche facile Ma Abbiamo fatto Secondo me Un lavoro Clamorosamente bello Un lavoro Clamorosamente supportato Da voi E spero Col passare del tempo Di fare tantissimi Altri progetti In compagnia Di tutti quanti ragazzi E vedremo Ragazzi Cosa ci aspetterà Al futuro Noi ci vediamo In un prossimo video La Big Vanilla Finisce qua ragazzi Davvero È Qualcosa di Molto emozionante Anzi Voglio fare l'outro In compagnia di Coco Andiamo direttamente a Coco Per salutarlo ragazzi Perché Volete sicuramente L'outro con Coco E ragazzi Dal vostro Demark Dal vostro Coco È tutto Noi Ci vediamo In un prossimo video Chissà Se più avanti Sarà una Big Vanilla Due Coco sicuramente Ci sarà Ma Ne vedremo Veramente delle belle Da Mark è tutto ragazzi Dalla Big Vanilla È tutto ragazzi Ci vediamo Campioni Ciao ciao